Va bene vedi, devi cercare, leggi i nomi Vedremo Il secondo Vabbè qua scatto questo E' fatto da questo, che è quello più grande, va bene Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Tanti auguri E buon fine anno Ciao ragazzi, eccoci qui Finalmente è arrivato il giorno di Natale Sei felice? Felicissimo Loro sicuramente staranno guardando questo video di lunedì Quindi Natale da loro sarà passato Fateci sapere sotto nei commenti Quali regali avete ricevuto Se avete ricevuto un regalo lasciate anche un bel Mi piace Siccome oggi è ancora nel Natale Devo darti a te il regalo E' uguale Eccolo qui, vabbè la confezione già la conosci Ora dobbiamo vedere il contenuto Ma che cos'è un mattone? All'inizio solo toccandolo, cerca di capire di cosa succede Secondo me è un mazzo di carte Ma a me non piace giocare a carte Non è detto che è un mazzo di carte Ma tu si è messo, l'atta Vabbè questa la voglio tenere Non si scopra qua, c'è un'altra scatola Non puoi vedere? Qualche cosa inerente per stappare bottiglie Perché a me piace Vediamo Bellissimo Remo Questo è la più bottiglia Bellissimo E anche il colore che piace a te Questo è la pagocce E c'è l'altro questo qui Per togliere la carta Ma pensiamo per la piglia ostrica Grazie Remo per questo bellissimo regalo Grazie, grazie Ci voleva proprio Facciamo la prova del nube Remo Questo mi ha detto per togliere la carta Provedi, l'ha tolto Vai Remo vai Dai dai Aguri a tutti e buon Natale Basta dai Buon Natale ragazzi Anche da noi A tutti, anche in famiglia Però è buono lo sfumante Almeno lo sfumante a Natale si può bere Non abbiamo visto come funziona il salvagocce Questa si mette qui Quando devi versare, guarda La goccia Guardate che arriva Dai so già cosa puoi fare Elena Eh, l'ho più i regali Ma tu nessun regalo Vedi a me Eh, no Per Elena E devi cercare Leggi nomi Per Elena Per Elena Ma non è solo Per Elena Ma e poi sono grandi Allora, vediamo Cos'è? Una borsa Bellissima Ti piace Elena? Sì Vediamo come dentro Adesso Io non avevo una borsa verde Mi sembri molto bella C'è anche la catena Il secondo Io già intravedo qualcosa Qui Aspettate Dove aprire ancora Ma cos'è? Ma cosa sono? Ho capito Si vende da qua Bellissimo Aspettate E che cos'è? È un microfono professionale Così poi ci devi far sentire le canzoni Ma c'è tutto qui dentro È bellissima Anche la custodia Ma questa qui è il microfono Bellissimo Ok adesso tocca a mamma Cerca quello tu Qual è il mio regalo? Che sono stata attenta Non ho visto nessun video Perché voglio la sorpresa Remo Questo E poi a me Piccolino piccolino C'è anche più o meno intuito Profumo C'è proprio un cuore Natrus Allora dai Wow Ricettario Benedetta Rossi Dai poi ci fai qualche ricetta Sono tante le ricette A me questa piace Mi piacciono le ricette di Benedetta E quella è anche l'ultimo So già quali sono con i miei Perché le ho fatti io tutti questi regali E parto da questo Che è quello più grande Va bene Vai vai Che cosa non mi gusta E voilà Bella questa giacca È un bombe Mi piace? Sì Vediamo come mi sta Vi piace la taglia giusta? Sì Sì Che ne dite? Dai adesso c'è un'auto per me Questo è l'ultimo Tutti i vestiti che mi servivano Guardate Lo faccio così per vedere come mi sta Mi piace Come tanto Sono rimasti questi ultimi due Qui c'è anche quello di Francesco Che per ora non c'è Ma io lo voglio far vedere Voi sapete di cosa si tratta E il campelino Tanto l'avete visto nello scorso video Quando era Francesco Dopino Ecco qui abbiamo finito Abbiamo aperto tutti i nostri regali Adina a quale ti è piaciuto i piedi due? Tutte e due? Sì tutti e due Però apre sempre il microfono Perché mi serviva Anche il mio è bello È solo che mi mettono sempre i fornelli E papà è invece quello tuo Quello mio è bellissimo Perché io sono amante E mi sta a fare le bottiglie Invece siccome a me servivano i vestiti Ho fatto la cosa giusta Mi sono regalata natale i vestiti Hai fatto bene Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel piaccio Iscrivetevi al canale E tanti auguri E buon fine anno Vi auguro un buon 2023 Anche noi ce l'auguriamo Un buon caso agli altri E che dire Ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi